tredicesima puntata di aperici amiche amici ben trovati in questo nuovo appuntamento della rubrica dedicata alla serie cinao e alle sue competizioni una situazione non casuale perché appunto ieri si è giocata la finale di coppita la serie c tra il catania il pado ha vinta per quattro a due dagli etnei ne parleremo ampiamente avremo anche un ospite a riguardo che ci racconterà un po tutte le emozioni che si sono vissute al massimino come vedete oggi non abbiamo con noi fisicamente sarà castellana anche se tra poco avremo un collegamento speciale con lei ma abbiamo voluto comunque ospitare due due amici della serie c qui con noi alla mia destra abbiamo valentino della casa della casa dc ciao valentino ciao luigi grazie per essere qui con noi e peppe di giovanni una delle voci e dei volti della serie c su sky sport ciao peppe ciao luigi ciao a tutti e buona serie c buon finale di stagione a tutti noi siamo comodi mettetevi comodi anche voi perché tra poco partiamo come come dicevamo tanti sono gli spunti e gli approfondimenti da fare quindi sigla e poi ci siamo tredicesima puntata di aperici siamo pronti ripartire come dicevamo oggi sarà castellana non è fisicamente qui con noi ma ci ha tenuto a esserci e a farci comunque un saluto da molto lontano ce lo dirà lei da dove la salutiamo subito ciao sarà ben trovata da dove ci chiami dove ci saluti ecco ciao luigi ben trovato a te e ai nostri ospiti possiamo dirlo quando ci sono io non viene a trovarci mai nessuno siamo sempre io e te e invece quando non ci sono c'è tutto il salotto pieno allora io sono a buracai nelle filippine e è un piacere per me essere con voi perché sto mi sto godendo un po lo spettacolo perché sono stati tanti gol l'ultima giornata di campionato moltissimi gol nella finale di coppa etania che io ho potuto godermi anche da lontano perché perché ammette il canale youtube della lega pro c'è la possibilità di vedere tutti i gol quindi anche dall'estero c'è questa possibilità e quindi invitiamo tutti a farlo fantastico fantastico anzi ma un bello spot per il nostro canale youtube come vedi si ho invitato un paio di amici cercheremo di non far sentire troppo la tua assenza lasciamo tutto pulito promesso e chiaramente ti aspettiamo qui e cobrani mercoledì prossimo perché ovviamente ci manchi già ecco quindi non vediamo l'ora di gavetti qui solo da noi vai luigi te la stai cavando alla grande vi mando un bacio e davvero portate avanti questa trasmissione e fate godere tutti i nostri ospiti e i nostri tifosi appassionati della serie c con tantissimi gol anche dall'estero un abbraccio ciao a presto grazie grazie ancora a sarà che ritroveremo come dicevamo mercoledì prossimo sempre qui alle 19 su aperici adesso però è il momento di collegarci con il primo ospite uno dei protagonisti della finale di coppita di ieri sera è davide marsura del catani ciao davide ben trovato e benvenuto ad aperici e soprattutto complimenti per la partita di ieri grazie mille buongiorno a tutti sentiamo subito nel vivo dell'intervista chiaramente ieri sera abbiamo detto il catania ha vinto 4 a 2 con il padua ribaltando la sconfitta dell'andata e nei quattro gol diciamo c'è più del tuo zampino nel senso che appena entrato in campo hai segnato il gol del 3 a 2 che ha permesso ai tuoi di allungare il match ai supplementari e poi anche lo zampino nel nel gol di costantino che ha deciso la partita ci racconti un po le emozioni della serata e se vuoi anche quel momento del gol quel calcio d'angolo con la spizzata di monaco e la tua la tua giocata col ginocchio con la tibia ce lo direi tu che il ginocchio per il gol ecco sì sono entrato in campo che sentivo che c'era un'area diversa comunque giocare una finale diverso che giocare le partite di campionato della domenica però ci ho sempre creduto perché noi in coppa siamo sempre stati diversi da quelli del campionato sapevamo che potevamo entrare nella storia potevamo riscattare una stagione fin qui deludente e quindi per me abbiamo fatto una partita incredibile sul gol sono stato fortunato perché io ho messo la gamba e la palla mi è sbattuta sul ginocchio ecco quindi confermiamo ginocchio al VAR di Aperici confermiamo che il tocco è di ginocchio sì quel ginocchio credo che c'è un dio del calcio che alla fine quando devi raccogliere i frutti con gli interessi ti torna tutto se lavori e ti comporti bene senti una vittoria che per voi è fondamentale anche perché ovviamente non arrivavate da un periodo felicissimo e come dicevamo anche fuori onda vi può dare anche un'inizione di fiducia per il proseguo della stagione visto che comunque vi aspettano le ultime quattro partite di regolar season molto molto pesanti dal punto di vista del peso specifico delle partite e dei punti in palio sì come ho detto prima in campionato stiamo stiamo andando male con la squadra che abbiamo sicuramente dovremmo essere in posizioni diverse però abbiamo sempre avuto difficoltà non c'è mai stato un momento che veramente siamo riusciti a ribaltare la stagione in campionato secondo me poi giocando la parentesi giocare a catania è difficile e finché non lo provi non puoi capire quanto quanto è difficile quando le cose non vanno bene perché inconsciamente ti rigidisci gioco il freno a mano tirato e quindi anche per comprare i giocatori della serie b della serie a giocatori col nome però quando le cose non vanno bene è difficile trovare una soluzione però credo che una partita come quella di ieri tipo e ti deve dare una svolta in tutti i sensi sì e immagino che poi anche per per la piazza insomma sia una una bella soddisfazione questa del primo trofeo che ricordiamo è il primo trofeo nella storia del calcio catanese quindi insomma davvero un qualcosa da da ricordare senti davide ma prima di entrare in campo visto che praticamente poi hai toccato il primo pallone che è finito in fondo al sacco con il gol cosa ti ha detto il mister se ci può svelare c'è stato qualche incitamento particolare perché si è entrato veramente con una carica importante con la carica giusta e sul primo pallone sei stato pronto poi per appunto segnare il gol del 3 a 2 che appunto come dicevamo ha allungato la partita e supplementare sì il mister non mi ha detto niente di che so che lui ha grande fiducia in me arrivavo da una botta alla testa che sono stato ricoverato quindi magari mi ha fatto bene pure quella so che il mister non spende molte parole prima di entrare so che ha fiducia so che i miei compagni non fiducia in me ha voglia di lasciare un segno di provare lasciare un segno perché tante volte le cose puoi provarci poi la palla non entra però secondo me alla lunga se senti con questo atteggiamento che voglia di fare qualcosa di importante per la squadra le cose vengono e l'abbiamo visto ieri la carica giusta che ci hai messo senti davide qui in studio con me abbiamo valentino della casta della casa di c e peppe di giovanni che è una delle voci di sky sport che appunto racconta il vostro campionato lascio a loro la parola per una domanda a testa per qualche curiosità che hanno da rivolgiti parto da valentino ciao davide tu parlavi di parlavi di fiducia nei tuoi confronti comunque di un percorso crederci no hai parlato tanto di questo di questo concetto tu hai passato anche un qualche mese un pochettino più di difficoltà no a gennaio per esempio non eri in lista quindi come l'hai vissuta per te anche questa parte finale di stagione che secondo me è assolutamente premiante nei tuoi confronti anche nei confronti del del catania c'è anche un riscatto per te questo immagino si è detto bene gennaio è stato un mese difficilissimo sono stato un mese e mezzo fuori lista hanno cambiato molti giocatori che c'erano prima sono arrivati quel vecchio direttore purtroppo quando scende di categoria c'è solo da perdere se le cose non vanno subito bene come come vorresti però io sono sempre c'è se poi dovevo rimanere fuori lista purtroppo la mia decisione però sono sempre rimasto concentrato mi sono sempre allenato tutti i giorni ho mai pensato di mollare che comunque volevo fare un anno catania nel bene o nel male avrei voluto concludere un'annata un'annata qui ti dico chiaro che nessuno va a sperare che le cose cambino così che c'era un sogno però però vedi che alla fine ti sorprende finché non l'hai fatto ti sembra tutto impossibile poi poi è bello pepe di giovanni ciao davide io ho un paio di curiosità cioè la prima secondo me ce l'hai detto in qualche modo tu cioè questa squadra probabilmente ha un problema mentale in campionato perché una squadra che rimonta due gol al padova perché era sotto all'andata era sotto subito al ritorno è una squadra forte anche mentalmente probabilmente in campionato c'è il peso di quella classifica che non funziona inoltre hai detto giustamente catania un ambiente molto pesante quando le cose non vanno bene forse giocare senza pubblico vi ha isolato in un momento del genere e vi ha dato di più paradossalmente c'è un pubblico meraviglioso così caldo che però quando le cose vanno male diventa quasi controproducente siete rimasti un po soli in quella partita e vi siete raccolti fra di voi almeno io credo da quello che abbiamo visto sì io sono sono sincero io la penso un po come te cioè se ieri ci fosse stato il pubblico che ripeto qui è un pubblico solo da applaudire perché quando le cose vanno bene hai una marcia in più proprio non te ne rendi conto sono sono incredibili questi tifosi però ieri prendendo un gol dopo tre minuti se si fosse stato il pubblico in questa situazione secondo me ci avrebbe ancora frenato di invece invece la squadra ha reagito e ha dimostrato mentalmente di essere forte e quindi io credo che tutte le cose del campionato siano proprio freno a mano tirato non siamo noi quelli e abbiamo dimostrato che possiamo fare possiamo ribaltare le partite quando vogliamo davide noi ti ringraziamo per questo contributo e anche per averti diciamo strappato ai festeggiamenti di ieri ma anche la preparazione delle prossime partite ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo per questo finale di stagione e poi per per quello che sarà dopo e insomma ancora grazie per essere stato qui con noi ad aperici e ti abbracciamo quando vuoi sai che qui c'è sempre posto per per te grazie a voi è stato un piacere ringraziamo ancora davide marsura del catania interessante no questa questa analisi post post partita dopo la finale di catania però adesso ragazzi è arrivato anche il momento di tuffarci sul campionato perché lo sappiamo la regular season ha emesso già il suo primo verdetto con il cesena che è diventato aritmeticamente campione del giorni b dopo la vittoria con il pescara alti verdetti potrebbero arrivare in settimana nel prossimo weekend però se siete d'accordo io fare così intanto ci guardiamo come top goal li commentiamo le tropparate li commentiamo e poi facciamo un discorso complessivo su quello che sarà il campionato quello che è stato a livello di sentenze e quelle che saranno le prossime quindi guardiamo i top goal e li commentiamo insieme ciao 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 pepe vengo da te miglior gol la palma di miglior gol a chi la diamo a corbari non solo per il gol bellissimo ma per la stagione una stagione secondo me tra tra le migliori fra i centrocampisti del girone b e forse in assoluto è una mezzala che fa tutto difende segna riesce a fare il rifinitore no quando dici centrocampista moderno pensi a corbari sette gol in stagione voglio dire comunque non sono centrocampista non sono pochi non sono poche grandissimo col sono d'accordo con pepe c'è veramente un gol come il più bello di tutti anche se ne abbiamo visti veramente tanti anche quello di guerra per esempio mi è sembrato che ne ha fatti pochini quest'anno mi è sembrato veramente molto molto interessante quello di corbari secondo me è il più bello di tutti si quindi c'è un plebiscito su corbari e guerra invece ne ha fatti pochi in generale del girone b nel senso che è il miglior marcatore il time del del girone quindi assolutamente da citare anche il calciatore della juventus next gen passiamo invece adesso alle parate anche qui sono cinque le guardiamo siamo troppo litigheremo e poi ascoltiamo il litigio ciao 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Benevento e adesso c'è Benevento e Stabia però ti ho anticipato il tema Esatto, mi hai dato l'assist perché abbiamo appunto parlato del GnB, tra un attimo parleremo anche del C, però ecco volevo un attimo concentrarmi con voi molto rapidamente sul cammino che ha fatto il Cesena, tra l'altro anche sulla coreografia che il Manuzio ha regalato alla squadra nella partita col Pescari che secondo me è molto esplicativo, ovvero tutti i calciatori che dal settore giovanile sono arrivati a giocare in prima squadra e il settore giovanile sul quale poi i Romagnoli hanno costruito l'ossatura della squadra che ha stravinto il campionato Quindi un bel segnale anche per tutto il calcio italiano Ce l'aveva raccontato anche Mimo Toscano da Pericì qualche puntata fa, comunque i giovani hanno fatto la differenza Cesena, direi che non ci sia nulla da dire, poi Spendi ha fatto un campionato strepitoso, miglior marcatore di tutta la Serie C Esatto Quindi parliamo veramente di un giocatore che sicuramente è pronto per, purtroppo per la Serie C e pronto per la Serie B, nel senso che non lo potremo più vedere sulla Serie C now l'anno prossimo credo, però veramente parliamo di un grandissimo giocatore con ottime prospettive Secondo te Peppe potrebbe ricarcare le rome del fratello e quindi magari fare già il salto anche in A? Secondo me è meno tecnico e più cattivolo del fratello, cioè il fratello è più, un giocatore è stato messo prima punta nell'Empoli ma il giocatore può fare più l'esterno, invece lui è più bomber Questa è una squadra secondo me la più forte delle 60, indubbiamente, io da settembre vedo questa squadra, gioco a proprio un ritmo diverso dagli altri Avete citato Spendi, un giocatore che mi fa impazzire Adamo, che è un giocatore che secondo me può fare la Serie A adesso, cioè se penso a una squadra dall'undicesimo al ventesimo posto della Serie A può serenamente fare il quinto, ma ce ne sono tanti Secondo me lo specchio del Cesena, del campione del Cesena è Ogunseie, che credo abbia giocato tre partite da titolare, è uno che aveva fatto 11 gol a Foggia È un organico forte, con un allenatore straordinario che tra l'altro di queste imprese ha fatto il suo pane in carriera Vediamo Toscano quinta promozione all'interno della Lega Pro, quindi uno specialista E poi è una squadra proprio che ha saputo leggere qualsiasi partita, cioè ha fatto partite anche un po' più riflessive Poi quando ha spinto c'è stato il momento che faceva 4-5 gol a tutti, una promozione strameritata E mi sento di dire una piccola cosa, complimenti alla Torres, perché fare campionato per otto mesi contro una squadra così forte E bisogna soltanto fare gli applausi alla Torres Assolutamente, giustissima chiamata la tua, mi devi dare prima l'assist del Gironi C, quindi ci andiamo subito Gironi C che appunto vivrà il big match nel prossimo weekend con la prima contro la seconda, Juve Stabia contro Benevento Valentino, basta un punto alla Juve Stabia anche qui per certificare una promozione che probabilmente in sua stagione nessuno quasi avrebbe auspicato No, direi sorprendente, sono d'accordo con te, però assolutamente meritata Assolutamente Perché Juve Stabia stia facendo anche in questo caso un ottimo campionato, più o meno come il Mantua nel Gironi A Visto che stiamo parlando di Verdetti direi che, insomma, spero che i tifosi non se la prendano a male Però credo che ci siamo quasi, insomma, per quanto riguarda le prime Ottimo campionato della Juve Stabia, veramente sorprendente In realtà trovo sorprendente anche quello del Mantua, in particolare il lavoro di Postanzini che secondo me ha fatto Guarda, sulla Juve Stabia è la squadra che mi ha stupito di più E secondo me ha fatto una cosa, la cosa che gli ha fatto vincere il campionato l'ha fatta a gennaio Cioè la Juve Stabia si faceva il paragone un po' con la Juventus in Serie A Quando c'era il momento che vinceva le partite un po' sporche Tanto poi c'è il calcio d'angolo e Stengabellici di testa, quante ne ha vinte così? Dietro lo difendeva benissimo e si pensavano che può prendere 5 gol in un girone anche nel giorno di ritorno A quel punto poi Juve ha alzato la qualità, la società è intervenuta sul mercato Hanno preso adorante acquisto, azzeccatissimo, azzeccatissimo Già in doppia cifra da gennaio oggi Esatto E hanno migliorato la qualità offensiva del gioco Cioè nel momento in cui tutti pensavano, eh ma tanto la Juve Stabia può crollare Perché dietro ci sono su tutti Avellino e Beneventolo La Juve Stabia è migliorata proprio come complesso di gioco Ed è anche questa una promozione strameritata Così come sarà strameritata con tutti gli scongiuri del caso Chiaramente quella del Mantua che ha mancato il primo match point domenica scorsa Ma può rifarsi già Ma è stato molto bello anche l'applauso che gli hanno dedicato i tifosi alla fine della partita Nel senso festa mancata ma in realtà festa comunque Cioè secondo me è stato un bellissimo segnale Anche perché va detto Valentino, l'abbiamo visto prima nella top go Nella top parate, pardon Ha trovato di fronte un Wismara che ha preso qualsiasi cosa Quindi era anche in giornata di grazia il portiere Un altro dei portieri che stiamo vedendo in questa serie Però ecco, il Mantua che manca un punto alla scuola di Bostanzini per arrivare in Serie B Se non sbaglio dopo più di dieci anni, no? Dopo tanti anni Più di dieci anni Tanti anni che mancano, esatto Ecco, quello che vi chiedo sul Mantua è Visto che parliamo di una situazione anche qui molto sorprendente Rispetto a quello che si pensava ad agosto dell'anno scorso Di farmi un nome su tutti Anche se so che non è semplicissimo Di un giocatore simbolo di questo campionato O anche di un giocatore Parto io, cito Postanzini Che secondo me è proprio l'emblema di questa squadra Secondo me Postanzini ha fatto veramente un capolavoro proprio Perché ha creato una squadra con delle aspettative importanti Ma non così importanti E l'ha resa proprio una certezza di questo girone Sarebbe troppo facile dirvi Galupini Che è un po' l'uomo con copertina per quanto riguarda i giocatori Sarebbe affascinante dirvi Fiori Che era un giocatore che giocava in Serie D Altra intuizione geniale Vi dico Sasa Burrai Che è un giocatore Che secondo me avrebbe meritato un'altra carriera Sono qui centrocampisti vecchio stampo Che parlano col pallone Quindi insomma io dico Burrai Ma come avete detto bene Questa è una creatura di Postanzini Anche Galupini in effetti Ci stavo pensando che Galupini è un'ottima chiamatoria Ma è comunque un esperto della categoria La conosce molto Sì e poi ormai la sua sostanza è diventata iconica Anche sui social Ci ha dato tanti spunti di lavoro E quindi anche per quello lo ringraziamo Chiaramente ragazzi Guardando un po' il campionato E le ultime quattro giornate di regular season Andiamo verso partite molto decisive Piazzamenti da definire Sia in chiave playoff E in chiave playout Vi chiedo magari in un minutino Di fare un attimo un recap Per capire un po' ad oggi Quelle che potrebbero essere Le griglie playoff e playout Anche perché soprattutto per i playout Lo sappiamo Ad oggi diversi scontri Non si giocherebbero Per la famosa regola degli otto punti di distanza Io partirei dal Catania Visto che è stata la nostra apertura Il Catania con la vittoria della Coppa Italia Entra di diritto nei playoff Pur non avendo una classifica Diciamo ottimale Come anche ci ha detto Prima Marsura La cosa interessante è questa però Perché il Catania è a più otto Rispetto alla penultima Quindi Se dovesse evitare i playout Arriverebbe di diritto nei playoff E tra l'altro non nella prima fase Ma nella fase dei playoff nazionali Quindi dopo le prime tre partite Come le terze Esattamente Come le terze Anzi sarebbe tra le migliori Delle terze Infatti affronterebbe la peggiore Delle classificate Della prima fase dei playoff E occhio al Catania Perché adesso che ti sei tolto Un po' le scorie Arrivi ai playoff Dopo una stagione Dove sei stato Nettamente al di sotto Delle aspettative Trovi delle squadre Che sono scariche Arrivano a quel punto Che hanno fatto magari Trenta punti in più del Catania È un campionato Che li ha Prosciugati Invece il Catania Arriva paradossalmente In una situazione In cui tutto è da guadagnare Deve ancora arrivarci Manca qualche punticino Per assicurarsi Perché ricordiamo Se dovesse andare ai playoff Sarebbe tutto perduto Però Però molta attenzione In chiave playoff C'è stata una partita Molto importante Nel Giro NB Con la Carrarese Altra squadra A cui vanno fatti i complimenti Con Calabro In battuta 13 risultati utili di fila Che ha battuto il Perugia Dovrebbe insomma Arrivare terza Ed è una posizione Di grande vantaggio Ricordiamo invece Che le seconde Entrano A quelli che sarebbero I quarti di finale Con le 5 qualificate Le 3 seconde Poi inizia Un vero e proprio Tabellone Sarà la divertirsi Comunque Un mese e mezzo Di playoff È un altro campionato Noi che non li giochiamo Ma che li raccontiamo Non vediamo l'ora Ecco Quello sicuramente Telegrafici ragazzi Perché siamo in chiusura Faccio una domanda Cattivissima So che il mio direte Se Peppe Di Giovanni Dovesse mettere Ad oggi Una fish Su una squadra Favorita per i playoff La metterebbe su? La metterebbe Sulla casertana Ok Così Sì Perché è una squadra Che ha tutto L'esperienza Quattro davanti Che sanno vincere i campionati Un allenatore Molto preparato E che soprattutto Arriva libera A giocare i playoff Valentino? Io dico il Catania Proprio per quel discorso Che faceva prima Peppe Perché comunque La rosa è importante È andata Sotto le aspettative Però è importante E questo fatto Di aver vinto un trofeo Riporta entusiasmo La piazza che li carica La piazza Sappiamo bene Quanto Quanto possa influire Diciamo Diciamo Un discorso di tifosi Molto importante Quindi comunque Pescate dal girone C Quello che mi pare di capire Così come adesso Peschiamo brevemente Dai nostri canali social Dove vi proponiamo Sempre nuovi spunti Nuovi contenuti Da spulciare Chiaramente Vi rinnovo Anche l'invito A seguirci Su tutti i nostri Canali social Di chiaramente Seguirci Iscrivervi sul canale YouTube Attivare la campanella Per non perdervi Nemmeno un contenuto A proposito Di contenuti Molto brevemente Vi mostriamo Abbiamo parlato prima Del manto Del match Contro l'Atalanta Ander 23 Terminato 1-1 Noi abbiamo voluto Presentare la partita Con questa grafica Che vedete in Sovrimpressione Quindi con la sfida Tra i Virgiliani Quindi tra Virgilio E la Dea Atalanta Una sfida anche Molto Ha ottenuto Un ottimo terzo posto Al torneo nazionale Maggioni Righi Noi ve l'abbiamo raccontata Durante tutto il weekend E anche poi In chiusura di torneo Quindi un plauso Di nuovo ai nostri ragazzi Che stanno inanellando Una serie di risultati Molto molto Importanti In queste giornate Siamo arrivati adesso Alla conclusione Ragazzi Prima di salutarci Diamo qualche annuncio In conclusione Partendo Dall'appuntamento Che oggi Mercoledì 3 aprile Si è tenuto A Monopoli Con una nuova tappa Del progetto Terzo tempo E vi ricordiamo Come al solito Puntuale L'appuntamento Per sabato Alle ore 20 Sul nostro canale YouTube Con la differita Integrale Di uno dei match Della nostra Primavera Primavera 3 E primavera 4 Adesso ragazzi Siamo davvero Arrivati in conclusione È volata Quindi significa Che ci siamo divertiti Almeno il sottoscritto Si è divertito Quindi ringrazio Per essere stati Con noi Alla tredicesima puntata Del 3C Valentino della Casa Di La Casa di C Grazie Luigi Grazie a tutti Grazie a te E ringraziamo ovviamente Anche Peppe Di Giovanni Ricordiamolo Una delle voci di Sky Sport Tra Sky e Lega Ci rubo 5 secondi Proprio per dire questo Rimanete insomma Così Focalizzati Sulla Serie C Perché Perché Sky Sport E la Lega Stanno pensando Ad alcune novità Per i playoff Ovviamente Tutti da vedere Su Sky Sport Ne sappiamo qualcosa Su Sky Sport e su Nalo Ricordiamo Ne sappiamo qualcosa Anche a livello social Ma non vi spoileriamo niente Perché l'invito È quello di Appunto Continuare a seguirci Grazie ancora E come al solito Buon aperici a tutti Ciao Ciao Ciao